In questo video ti racconto della lettera alla chiesa di Filadelfia nel libro dell'Apocalisse. Ciao, sono Cristian Morano e ti do il benvenuto sul mio canale e se non ti sei ancora iscritto ti invito a farlo attivando la campana di notifica. Queste cose dice il santo, il vertiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti perseverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio. E il mio nuovo nome, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Filadelfia vuol dire letteralmente amore fraterno e deriva dal soprannome del fratello del fondatore di Filadelfia, che è il re Euneme II di Pergamo. Gesù si presenta come il santo, il veritiero e colui che ha la chiave di Davide e certamente è riferito alla divinità, all'autorità e anche alla regalità di Gesù, che ha avuto vittoria sulla morte e sembra che la chiave sia anche riferita all'espansione del messaggio del Vangelo con il passaggio dal vecchio patto a quello nuovo. Di nuovo in questa lettera troviamo la presenza di una sinagoga di Satana nel quale erano giudei, ma in realtà non lo erano, perché c'erano i veri giudei, cioè coloro che avevano riconosciuto Cristo, e i falsi giudei che ancora si aggrappavano al vecchio patto perseguitando i cristiani. Paolo nelle lettere romani, al capitolo 2, dice che i veri giudei erano coloro che lo erano interiormente, cioè coloro che erano stati circoncisi nel cuore e nello spirito e non nella lettera. Gesù in questa lettera afferma che farà venire questi giudei e li farà prostrare ai loro piedi. Questo è un riferimento a Isaia, al capitolo 60, che è scritto Questa promessa ovviamente era per Israele, ma Gesù l'applica a questa comunità che stava soffrendo tanta persecuzione. Quindi queste parole erano un grande conforto e una grande speranza per questa comunità. Infine Gesù dice che stava arrivando una grande tentazione, una grande prova, nel quale metterà alla prova gli abitanti e che lui stesso stava arrivando presto. Ovviamente questo era riferito alla distruzione del Tempio di Gerusalemme negli anni 70, che c'è stato un genocidio dei giudei da parte dei romani. Purtroppo la traduzione in lingua moderna distorge completamente alcune parole, come in questo caso mondo intero, quasi che queste promesse fossero rivolte a tutto il mondo, ma in realtà erano specifiche ad un'area locale e non al mondo intero come globo, come cosmos. Gesù conclude dicendo che chi vince lo porrà come colonna del Tempio di Dio e non ne uscirà mai più e gli darà anche un nuovo nome. Questa è un'immagine che trasmette ristorazione, fermezza e stabilità in Dio. Filadelfia era stata completamente distrutta dal terremoto Lidia negli anni 17, quindi questa è anche una promessa che rilascia un'immagine di una città nuova con un Tempio che non potrà essere scosso o distrutto perché si trattava del Tempio spirituale, cioè della nuova Gerusalemme e del corpo di Cristo. Nel prossimo video voglio parlarti della Chiesa di Laodicea. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti un mi piace, iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica. God bless you!